nel video di oggi illustrerò come eseguire una seduta di aerosol terapia il primo apparecchio aerosol che vediamo è un classico apparecchio con fin funzionamento a pistone e lo definiamo un apparecchio aerosol adatto a tutta la famiglia è necessario montarlo correttamente partiamo quindi dal tubo che collega l'apparecchio all'ampolla le ampolle ora sono realizzate in plastica quindi un materiale meno delicato rispetto al vetro con il quale venivano fatte in precedenza un'attenzione particolare va fatta nell'aprire e chiudere l'ampolla per caricare il prodotto da nebulizzare non è necessario forzare per chiudere l'ampolla perché tenderà poi a non chiudere bene in battuta a far fuoriuscire il prodotto dunque apriamo l'ampolla attenzione anche a questo piccolo accessorio in plastica che sta all'interno anche in caso di lavaggio dell'ampolla questo piccolo accessorio non bisogna perderlo perché senza di esso non si realizza la nebulizzazione e non si vende separatamente quindi in caso di smarrimento dovremo acquistare il kit aerosol accessori completo una volta inserito il prodotto da nebulizzare nell'ampolla scegliamo il device da utilizzare possiamo fare l'aerosol con la furcina nasale quando avremo un problema che riguarda le vie respiratorie nasali e quindi per esempio sinusite piuttosto che raffreddore oppure quando il nostro problema riguarda le orecchie e in particolare in questo caso sarà necessario anche masticare una gomma durante l'esecuzione dell'aerosol il boccaio invece va trattenuto fra i denti con la bocca serrata e il naso chiuso con le dita o con una molletta possiamo anche fare l'aerosol con la mascherina che verrà quindi inserita alla alla fine la mascherina dovrà essere utilizzata nei casi in cui l'utilizzo del boccaio non sia facilmente applicabile quindi nel caso per esempio di applicazioni in età pediatrica la mascherina dovrà aderire bene al volto in modo da non disperdere la soluzione all'esterno e dovrà coprire contemporaneamente bocca e naso esiste una mascherina dunque per persone adulte una mascherina da usare in età pediatrica esiste anche un altro apparecchio molto usato in età pediatrica l'apparecchio per aerosoterapia nebula è caratterizzato da una serie di soluzioni intelligenti che lo rendono sia un apparecchio molto efficiente e rapido per il trattamento delle basse vie respiratorie sia un sistema estremamente valido per il trattamento delle alte vie respiratorie e anche per eseguire il lavaggio nasale l'apparecchio per aerosoterapia nebula è efficace per il trattamento abbiamo detto delle basse vie respiratorie quindi asma bronchiale piuttosto che bronchiti croniche e in questo caso viene utilizzato come device la maschera boccale distanziatrice insieme all'ampolla me far 2000 questo è il suo nome commerciale dunque prepariamo quindi l'ampolla con il farmaco quindi il tubo apriamo l'ampolla nella quale inseriremo il farmaco attenzione sempre a non forzare l'ampolla per non renderla poi non usufruibile in in seguito attenzione anche a non perdere questo pezzettino all'interno indispensabile per la nebulizzazione poi abbiamo anche un altro device che è il rino wash in questo caso con il rino wash l'apparecchio nebula consente la cura delle affezioni delle alte vie respiratorie e anche il lavaggio fisiologico e o terapeutico con quindi l'aggiunta dei farmaci nel caso che noi vogliamo svolgere questa questo aerosol nelle cavità nasale in particolare il rino wash produce un getto di soluzione micronizzata che viene diretto nelle cavità nasale favorendo così l'idratazione e la fluidificazione del muco e del catarro e la sua rimozione quindi verrà mantenuto così e inserito direttamente nella narice esistono anche appunto questi filtrini che dovranno essere cambiati in maniera regolare c'è un piccolo vano dove viene sistemato il feltrino e serve proprio per filtrare l'aria che poi verrà utilizzata dal compressore